Ehi, ciao! Ehi, ciao! Cosa ci fai qua sotto solo? Sto aspettando la mia ragazza. Ma che bel faccino che hai! Oh, scusami! Ma mi dai il tuo numero? No, guarda, sono fidanzato, sto aspettando la mia ragazza. E vieni a cena con me stasera? No, sono fidanzato, lasciami stare. Vabbè, come vuoi. Scusami, ma è la tua macchina? Sì, ti piace? Sì, bellissimo, d'oro le Maserati. Vuoi fare un giro? Sì, dai, un giro lo posso fare. Ma non è rifidanzato? No, ma sì, ma solo un giretto, così veloce. Vabbè, dai, allora, se chiami la tua fidanzata e la lasci ora, puoi venire a fare un giro con me. Sì, va bene, aspetta un attimo. Sì, tesoro, senti, guarda, non funziona, non funziona tra le due. Eh no, non sta funzionando, cioè, davvero, mi dispiace. Ma, scusa, dove stai andando? Finché non avevi visto la macchina è rifidanzato, ora resti senza macchina e senza ragazza. Sfigato. Ma, ma io... Grazie.